Ciao a tutti ragazzi, non è l'inizio no, lo facciamo. Il domani, l'hanno medì, facciamo l'inizio con la minata cassa. Allora, facciamo tutorial, il mondo di Google, vai su, le impostazioni su calastro. Allora, facciamo la minata, vai, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 puntini, e vai, sotto, c'è i moduli, perché le moduli, si ha la verifica, perché tu, se, ehm, si usa il modulo, e tu, mi scriverai la verifica. Allora, ragazzi, io, quando sto, non ho l'intenente, anche voi, e si porto, come fare la, la, la verifica di segnamento. Passiamo a, qui, di risorsa fila, che voi, si passate, ma, qui, la capitale. La, la capitale, le azioni, ehm, che voi fate. Amine, dai, vi si ha, la verifica, 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 la verifica. La verifica, la verifica, la verifica, la verifica, la verifica. Allora, si poste e se sono, sta, eccolo. atti su penne la serie o l'immagine a volo che scuola ok si finita voi nell'automale ma siamo questo me l'ho usato una cosa si apre vai un settino qui per riscrivere una domanda allora voglio organizzare il bravo e se no perché io sono finnato la pane che andiamo a fare, non lo so, perché voi avete fatto le selezioni sui stati, avete fatto le selezioni, si, ok, e poi verificerò, avete fatto la verificazione delle consegne, come le selezioni, domande, allora, perché voi siete, inserciatevi a fare una, esempio, e che voi andate, cercate una, una, una nazione, la capitale e l'amo io cerco la pagina e lo dico sì ragazzi che ne dico che passi ne senti se tu parli allora è pagina 74 e 75 anche la spagna la spagna se mi ci vuole una felicità la nera nera capitano per la spagna presidi chi è chi è la capitale chi è la capitale della spagna a sign of a move to pick up a penna ma si vuole a seconda mondi in questi video, lasciate, lasciate, lasciate voi, continuate, cercando la pagina, lasciate, e che lo scemezzavo. La spagna se, c'è il vila, la centrale, furto testo, furto testo, la piazza Marolli, la piazza Marolli, voi siete andati a piazza Marolli in Spagna? E non ho mai, mi sono andati. Ah ma lì, già vi scrivi, se ne sanno, la pagina sara, 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 dobbiamo scrivere che era capitale chi è chi è la capitale del portogallo portogallo vai portogallo vai alla fermata il video vai su YouTube e state via la capitale di portogallo la capitale di portogallo portogallo da filia ed le cose fare capitale c'è spina di è la capitale nel portogallo portogallo la fiamma circale portogallo c'è via l'economia c'è l'economia c'è l'economia c'è l'economia la bandiera la bandiera c'è il portogallo 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 accadillo portogallo portogallo è il portogallo per cui as steht che questo friggio di Sofia racconta in B, perché lo sono soli racconta e faccio la la perca singoli e perla, una volta ci passiamo, Andorra è la capitale, 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 nel l'intervento, la carta sul video, sul video, sul video, sul video, sul video, sul video, su YouTube, anche io, bisognaggiavo, chi è, la carta sul YouTube, no, vai, sul mondo, per il contoglio, se avete il titolo, e il peccatino, anche se volete, se volete, perché fai lì, questa cosa, chi è, chi è, la capitale, capitale, del, contoglia, la storia che, a Stolz, a Stolz, ha stato, con due principi, pledi e storia, ho sentito le difficoltà di e la scena è possibile e la la vendere più giallo questo che vedete la fa la bandiera di andò già allora Allora ragazzi, continuate questa edifica sul mondo lì, non con il titolo edificati Questa sia continuate a tutti e le domande e il video su YouTube, cliccate, sai, meglio tanti impegni da fare, ok?